Ciao Lacustri, in questo momento è l'una di notte ed è appena finita Pasqua. E completamente a caso, un mio amico mi scrive su WhatsApp e mi fa Lollo sono uscite due nuove skin, vale a vedere. Allora io adesso non ho la minima idea di che cosa aveva in mente la Supercell, ma che cosa sono queste due skin? Chi è il pazzo malato che spenderebbe 199 gemme per comprare Poop Spike? Veramente incredibile. Uno spreco di soldi assurdo ragazzi. Oh ma scherze a parte, 7000 like a questo video prendo anche la skin di El Baby Shark. Probabilmente i miei contro te inizieranno a giocare a Brawl Stars dopo questa. Allora dove ce l'ha Spike? Qui ha 554 coppe, non va bene. Allora ragazzi, adesso ci prendiamo il nostro bellissimo Spike e con i nostri amati random, visto che a quest'ora non penso giochi qualcuno. Oddio ma c'è un bot di gente online, c'è pure Grax, c'è Nico. Vabbè, giochiamo con i random e vediamo che cosa succede e soprattutto a quante coppe lo riusciamo a portare. Mettiamoci gli occhialini tattici e let's go. Allora, che abbiamo? Abbiamo un bellissimo Chuck, abbiamo un Edgar e ovviamente ci sono io con la nuova skin di Spike, io non voglio immaginare cosa stanno pensando quelli che ho trovato contro. Che se vedono arrivare queste cacchine addosso, non so neanche che cosa sono. Oh no. Come al solito, i miei random mi stanno veramente tanto aiutando, eh? Incredibile ma vero. Avanziamo, avanziamo, torniamo un pelo indietro. Ok. Ulti. Oddio ma è bellissimo, guardate l'ulti. Che carina. Ok, grazie a me non stiamo più perdendo. No. No, vai giù. Ok, Colt è andato giù. Certo che anche io che mi sono preso la linea a destra quando ho la webcam a destra sono veramente un genio, ragazzi. Ok, Colt. 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 Oh, GG. Abbiamo fatto danni importanti, ci piacciono. Oh no. Oh no, 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 no. Via la torretta. Non ci posso credere, abbiamo perso perché il nostro maledettissimo trenino non metteva giù i paletti. Incredibile se mi devo arrabbiare all'1.20 di notte, ragazzi. Ah, ok. Underdog, quindi non ho perso coppe. Ci sta. No. No, 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 no. No, 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 no. Io spero che lasciano così il gioco soltanto per un giorno perché se sento la frase baby shark dooduruduru più di una volta potrei impazzire, ragazzi. Potrei impazzire. E quando si parla di Brawl Stars ve lo giuro non so quanti di voi stanno seguendo le mie live ma sto provando ad arrivare a Master che sarebbe questo bellissimo grado qui nelle ranked completamente con i random. E vi posso soltanto dire che mi mancava una partita per sbloccare l'ultimo stramaledettissimo star drop delle ranked che sarebbe quello di leggenda di 3. No, 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 ho perso tutti i trofei, tutti i trofei, i miei random stavano fermi, lanciavano i colpi da soli, era un qualcosa di incredibile. Quindi se non vuoi perderti anche tu queste live mi raccomando ti aspetto ogni giorno alle 2 di pomeriggio e alle 9 di sera. Ma oggi non voglio più parlare di ranked e andiamo subito in un'altra partita con i random e vediamo come andrà a finire. Ok, adesso mi prendo la linea a sinistra. Vediamo la nostra Piper e il nostro bellissimo Brock come se la cavano. Ok, di nuovo contro Colt in tutto ciò. Solo una persona può dominare qui Colt e non sarai tu sappilo. Ok, Colt andando giù per bene. Oh, mi ha preso con tutti i colpi, attenzione. No, Spike. Oh no, l'ho preso. Si gode, si gode ragazzi. Uff, lo abbiamo cucinato. Ci ha cucinato anche lui, eh. È stato uno scambio interessante, ora si sono scambiati le posizioni e sono contro uno stramaledettissimo Brock. Ha provato a giampare il mio colpo, forse ce l'ha pure fatta. Oh, no, lasciami stare, ti prego. Ok, buonissimo. Un danno importante e la loro cassaforte è al 10%, 6%, 5%. Potremmo vincere, eh. 1% e abbiamo vinto. Perché il loro Brock non è riuscito a difendere il nostro. Bravissimo Brock, ha fatto anche la giocata del game. E ci portiamo a casa questa vittoria. Ragazzi, l'obiettivo di stasera è almeno provare a riportarlo al rank 25, tier 25. Non so come lo chiamate voi. Grado 25. Dov'è la mia acqua? Ho bisogno di idratarmi. Mi raccomando, anche voi ragazzi, idratatevi almeno 2 litri d'acqua al giorno. Mi fa vedere come in ogni game io sono l'unica persona che ha leggenda. È un qualcosa di incredibile. No, zio. Usa un'altra volta quella emote. Colt diventerà la cosa più tossica da usare, quel Baby Shark. Non ce l'ho anch'io. No, non ce l'ho, infatti. Oh, di nuovo contro Colt. Ma non è possibile. Lasciatemi respirare, ve ne prego. L'altro ha un range incredibile, Colt. Ok, Colt è andato. Si va sull'Eist. Ok. Abbiamo fatto dei danni molto importanti, ragazzi. La loro Eist è al 59. Vai un'altra volta quel Baby Shark on God. Ok, il trenino è ritornato. Spike vs Spike. Lui tutto con la skin cattiva, io con letteralmente. Pupo Spike, guardalo lì come cammina. E avanza. E lancia quella cosa strana, arcobaleno, molto da me contro te. E si porta a casa anche questa partita, ragazzi. Let's go. Spike, uno dei brawler più forti del gioco, secondo me lo è sempre stato e continua ad esserlo. Adesso voglio vedere se ce l'ho anch'io quel pin, perché non è possibile. Non vedrei nessun tipo di Baby Shark. Forse si ottiene, aspetta. No. Io... Meno male che Spike non ha un suono, tra virgolette, perché sennò era finita. È uno dei pochi brawler che... Yes, sir. 3, 2, 1. Dolci in forno, siamo pronti a cucinare. Mi devo prendere purtroppo la linea destra, ragazzi, ma cercherò di farmi vedere. Oh, finalmente non sono contro uno stramaledettissimo Colt. Siamo contro un bellissimo Crow. Allora, Crow, vieni qua, my man. Vieni qui. Eh, ok. Volevo usare lo Sprite, bro. Solo tu sai come stai schivando sti colpi, Crow. Ah, infatti. Ok. Crow è stato preso. Crow! Non ti conviene scappare, Crow? Che poi succede quello che sta per succedere tra un secondo. Anche al tuo compagno. Aspetta. Perché siamo in tre sulla linea destra? Come è successa questa cosa? Vabbè, facciamo dei cheap damage da lontano. Appena scade questo andiamo belli cattivi. Ok. Abbiamo fatto danni importanti alla loro Ice Tale, 34%. Qualcuno ha danneggiato la nostra, ma poi è tornato indietro, mi sa perché. L'ho vista scendere, ma non c'è nessuno. Qualcuno ne ci spugli qui? No, perché vieni con me, Griff? Vai in mezzo! Ma che è pazzo, ragazzi? Io non so più che cosa dire. Guardalo. Qui cammina dritto, non lo so. Il bro pensa di essere il main character e a quanto pare lo è. Non lo so. Aspetta. No, volevo provare a passare, non ce l'ho fatto. Andiamo nel mezzo. Mi fa troppo ridere come cammina. Aspetta, fa un suono? No. Non ha neanche un'animazione, ho capito. Allora, Piper, la devi smettere di lanciare colpi sulla nostra Ice. Torna indietro. Oh, 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 oh! Piper? Piper? Piper, 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 Spike. E sì, god, ragazzi, anche questo game è portato a casa con i random, che non ci stanno troppo deludendo. Vi dirò la verità, questa sera sono built different i random. Sono veramente built different. Siamo in una win streak di quattro partite. Vediamo se riusciamo ad arrivare a sei, così ci portiamo anche a casa quelle cinque coppe extra ad ogni partita. E si vola. Fa anche ridere l'animazione di El Primo così, con la skin di Baby Shark. Vabbè. No, 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 ragazzi. Avete già visto? Tomar, sette, cinque, tre. No, 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 no. Com'è che ce l'hanno tutti quella cosa lì? Comunque è incredibile. A parte il fatto che abbiano tutti quel coso, si chiamano tutti. Tomar, se lo fai partire un'altra volta... Mannaggia a te. Questa che si è scelta Pem per giocare in Aist, vabbè. Pem, sentiti libera, nel senso... Non ti criticherò. Guarda la mia skin. Ok. È andato giù Colt. Mi dispiace quasi per loro. Ok. Pem. Oh, oh. Damn, Pem. È sempre qualcuno che mi osserva comunque quando faccio i game. Devo capire chi cavolo è, ragazzi. Se mi stalkerate, ve lo giuro. Allora, Pem. Mi stai annoiando parecchio. No, non ce l'ho fatta. Per po... Ma quanta vita c'ha, Pem? Ok. Forse posso capire perché è stata scelta. Mi conviene cambiare lane. Allora, Tomar, se fai partire un'altra volta Baby Shark. Oh, God. Uff. Leggermente rallentata. Rimane lontana. Ci stanno facendo troppo male. Non va bene. Io vado sulla sinistra. Voi dividetevi. Ok. No. No, no, no. Qualcuno fermi quella Pem. No, 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 no. Ruttare a win streak per Tomar. Io ve l'ho detto, ragazzi. Quando c'è un Tomar in squadra, ve lo giuro. Sapete chi sono veramente i top player di Blastars? Quelli che hanno LL nel nome, ragazzi. Perché noi abbiamo cambiato il nome. Abbiamo LL e Lacustre. Mi raccomando, mettetevelo anche voi. Oggi nelle ranked ho trovato delle persone che erano quasi a Master che avevano LL nel nome. Quindi è garantito che vi faranno giocare meglio. Ve lo giuro. Diventate dei pro player istantaneamente. Ok. Siamo pronti a cucinare. Siamo pronti anche a nuotare con questo nuovo sfondo. Black Oxygen e Kapu. Let's go. No. Ma cosa mi spinni? E quello addirittura lei mod del clown. Ragazzi, incredibile. Non sono neanche in live che dicono magari... No, ragazzi. C'è qualcuno che mi ha donato degli abbonamenti mentre non sono in live. A proposito di live. Lorena. Ma è impazzita. Lorena, grazie ai dieci abbonamenti regalati così a caso. E c'è pure una persona in chat che sta scrivendo. Vabbè. Niente, la mia live è più attiva di quando sono in live. Incredibile. Uh, ho usato una ultima importante qua, eh. Abbiamo fatto dei danni golosi. Buzz. Stai attento. Debro pensare di riuscire a doggiare i miei colpi. Porca vacca, c'è riuscito. Si gode? Ci siamo tradati di questa kill? No. No, no, no. Bulfo male, Bulfo male, Bulfo male, Bulfo male. No. No, è riuscito ad arrivare alla nostra ice. Colt. Sì. Con 2%. Si gode. Grandissimo Colt. Baby Shark. Come si ottiene quella cosa lì di Baby Shark? Non è che te la regalano gratis se me lo son perso. Non te la da sicuramente questo. Come si ottiene quella cosa lì, ragazzi? Perché ce l'hanno tutti? È scorretto. È scorretto? Io non ce l'ho. Contro Leon, Griff e Crow. E noi abbiamo Spike. Quella skin di 8-bit. È molto rara. Vuol dire che questo giocava all'epoca. Quindi probabilmente ha un po' le mani. Cioè, spero. Magari non le aveva e aveva solo i soldi. Effettivamente è una probabilità anche questa. Ok. Immagina essere... Immagina essere spinto lontano da Poop Spike, bro. Incredibile. Diventerà il nuovo umiliare le persone, ve lo giuro. Ok, il bro ha piantato questo con cui si fanno danni molto importanti. Li blocchiamo. Li teniamo alla distanza. Il Crow sta per andarsene. Ok, il Crow se n'è andato. Ehi, Leon. Ti ho visto, eh. Bloccatelo, vi prego. Uff, ok. Bravissimo Yusuf. Ehi, Griff. Che fai? No! Come ha fatto Gold, ragazzi? Lo sa solo lui. Come ha fatto Gold. No, sono arrabbiatissimo anch'io. Vai tranquillo, 8-bit. Ti capisco. Sì, 8-bit, però... Ok, Griff è andato. No! Almeno ho lanciato via la palla. No, Mortis. Mortis torna indietro. Mortis sei pazzo. Mortis sei... Non voglio impazzire. Sto già impazzendo troppo ultimamente su questo stramaledettissimo gioco. Sto già impazzendo troppo. Poi, voi immaginatevi essere... Adesso non è il mio caso. Ma immaginate aver perso 10 partite consecutive e senti... Baby... Io posso solo immaginare una persona che non riesce a contenere la sua rabbia. Che cosa può fare con il suo telefono? Questo vola dentro dritto al monitor, ragazzi. Comunque fa spaccare. Guardate la skin. Mamma mia. Sistema riserver di Brawl Stars? Assolutamente no. No, aggiungere Poop Spike. Hell yeah. Una giornata media agli studi di Supercell. Vabbè, torniamo nella modalità dove sembra performare meglio. Ovvero... Ice. Rapina. Ah, scusatemi il tono basso di voce, ragazzi. Ma in questo momento, appunto, è molto tardi. E non voglio svegliare i miei genitori. Perché per ora vivo con loro. Ok, Spikey. Non deludermi. Ok. Ci siamo tradati la kill. Il nostro Yuki sta andando forte. Mi sa che mi prenderò al lato sinistro ora. E ovviamente, contro chi siamo? Contro un Colt. Questa è la mappa di Colt, ragazzi. Incredibile. È riuscito a distruggermi completamente a sto giro. Ha sprecato un coso dell'attacco. Devo capire... No, quel Colt è molto forte, ragazzi. Mamma mia quanto è forte. Ora tornerà giù? No, ha deciso di rimanere in difesa, mi sa. Ok. Danni importanti sulla loro Ice. Mamma mia. Il nostro Nani è fortissimo, comunque. Stiamo comunque perdendo, nonostante tutto. Incredibile. No, quello fa malissimo. Eh, con quella potremmo aver perso la partita, ragazzi. Eh, già. Baby Shark. Mentre ho perso quattro partite consecutive. È la cosa più bella che potevo sentire. Ve lo giuro, oggi non aprirò più Brawl Stars perché potrei smattare completamente. No, il nostro Nel Primo ha quittato e diventato un bot, ragazzi. Incredibile. GG. Finalmente, ragazzi. Un GG. Incredibile. E Star Player, ovviamente, l'ololacustra. Chissà se riuscirò ad arrivare a 40.000 coppe prima di spaccare completamente il mio iPhone 12. Non ne sono così sicuro, eh, sinceramente. Oddio, abbiamo contro un'altra leggenda. Incredibile. E ovviamente che cos'ha? Chuck. Quello stramaledettissimo trenino ce l'avrà a livello 11 con tutti i power up, eccetera, eccetera. Non dobbiamo fargli mettere... Ohì. Bea? Ohì. No, ragazzi. Bea fa troppo male. Bea fa veramente malissimo. Oh no, sta arrivando Buster. Ok. Buster non sta più arrivando. Ih, vai. Vai, 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 sì. Guarda perché il trenino so cosa vuole fare. Il trenino ha delle strane idee. Trenino, vieni qui. Il trenino si è spostato, ma ha messo male i paletti. Il nostro no, si gode. Guardalo lì come attacca. E si porta a casa anche questa partita grazie a Pumba e grazie a Lolo Lacustre, che usa il suo gadget nel momento giusto. Winstreak. Siamo trovati in Winstreak. Dai, almeno a 600 trofei. Let's go. Siamo contro un Mico Russo, Leon e Pascal 18. Allora, Bayan, se vuoi andare lì, vai pure. Io vado sulla sinistra, non ti preoccupare. Ok. Il trenino sulla sinistra non l'avevo mai visto. Di solito quello si gioca sulla destra. Ah, ok. Voleva semplicemente piantare il paletto. Trenino. Sto riuscendo anche a tenermi un po' la distanza, eh. GG per lui. Niente, è scomparso nell'oblivio. Fortunatamente sono riuscito a fare un po' di danni, cosa che i miei compagni non stanno riuscendo a fare. Trenino continua a passare da questa linea qua per mettere i suoi paletti per qualche strano motivo. Bro, non è una buona idea per te, eh. Io lo sto dicendo. Non lo sto dicendo per altri motivi. Oh, aspetta. GG, me la sono mangiata con l'Aist. Guardate che giocatona, ragazzi. È scomparsa con l'Aist. Gli ho fatto tipo 20.000 di danni così. Spike rimane ancora una volta uno dei top brawler. No, ragazzi, non è possibile. Mandy. Come fai a giocare Mandy in questa mappa? Prenditi la linea centrale. Ah, ho capito. No, beh, in realtà non è neanche così male. Comunque se volete un consiglio, ragazzi, per giocare Spike lo dovete giocare come se fosse Jesse, ve lo giuro. Pensate che sia Jesse e che questo colpo è il colpo di Jesse. hitterete un sacco più colpi e soprattutto farete molto più danno generale. Adesso ve lo dimostro. Facciamo finta che questo sia il colpo di Jesse. Inizia a spinnare. Inizia a spinnare. Me ne sto tenendo due da solo, per farvi capire. Adesso quella è costretta a stare lì. Ok. Trenino che auto-aim verso di me. Se riesco a pushare e andare proprio dritto nella loro Aist, potremmo recuperare, ma probabilmente no. Com'è che hanno tutti sto baby shark? No, ragazzi, non è possibile. Mi sa che è andata questa partita, rip. A meno che quella Jesse fa un miracolo. Niente, è andata. Per colpa di chi è che ha fatto tutti i danni a Aist? Mannaggia loro. È infatti underdog. È incredibile che ogni partita che perdo, dove è traiardo di brutto, sono sempre underdog. Almeno non perdo trofei, ci sta. Grazie Brawl Stars, per una volta mi ascoltano. Oh no. Quello lì è una skin molto rara di 8-bit. Non ci prendiamo il centro e siamo contro Colt. Ovviamente. Cosa sta facendo al nostro Chuck? Ehi. No. No, ragazzi. Non mi si muove più. Ok. È iniziato... No, non mi si muove il personaggio. Velo giù. Ragazzi, non mi si muoveva il personaggio. Cosa sta succedendo? Non ditemi che sono di nuovo i server, perché potrei smattare. Fanno andare i server per mettere Poop, Spike e poi non li fanno funzionare. Potrei veramente impazzire. Alla loro Aist è il 52%. Quello ha deciso di utilizzare molto random la torretta, va bene. Il nostro bro che ritorna dopo aver fatto 20% della cassa così in chill. Birdie che è rimasto bloccato nella mia super per tipo mezz'ora. E la partita che viene vinta. Grandissimo Chuck. Grandissimo anche al nostro Saru, che è riuscito a fare dei danni importanti. Abbiamo portato Spike a 607 trofei, ragazzi. Mamma mia. Siamo Brock, Mr. P contro Chuck. No, finisce male questa partita. Finisce molto male. Quello lì che flexa. Allora, il loro Spike è leggermente più indietro del mio. A livello di cose che hai. E anche, secondo me, il gadget sbagliato per questa modalità. Però potrei sbagliarmi. Ok. Ho vinto la 1v1 con Spike. Il loro Chuck sta iniziando a cucinare. Ah, ho capito. Ho riuscito a shieldare. Bravo, bravo, Spike. Oh. Ho fatto l'errore di lasciarmi andare. Eh, qua sono danni importanti, eh. Unico che è riuscito a fare danni a sta cacchio di safe. I miei compagni chissà dove sono. No, non sono riuscito a to... No, ragazzi. Aspetta! Non ci credo! Abbiamo vinto! È rimasta tipo a 900 di vita. È incredibile. Edendo e scherzando, è quasi un'ora che sto giocando con questo Poop Spike e non riesco a fare progressi importanti per via dei random. Mi devo genuinamente creare un team di persone al mio livello. Non voglio cercare persone più brave al mio livello. Quindi, ragazzi, se siete sulle 35.000 Coop, se siete lì e lì per arrivare a Master, mi raccomando, scrivetemi nei commenti che sto cercando gente per giocare con me. Anche solo da aggiungere agli amici. E mi raccomando, ricordatevi di passare da live perché gioco sempre con voi, eh. Facciamo anche delle amichevoli, 1v1, molto spesso, for fun, in chiusura. Aspetta, perché qua li ci occupesciamo. Ehi. Ehi. Ok. Ulti. No, mi ha preso! No. Ragazzi, mi ha cucinato. Non è possibile. Qualcuno fermi quel colt, ve ne prego. La nostra ice ha subito troppi danni. Quella bella mi fa molta paura. Eh, lì mi dovresti prendere soltanto quella ulti, ma lo so che la vuoi tenere per la mia cassa. Oh! Oh! Ulti sprecata. Ok. Andata la tipa lì. Danni importanti fatti. No, mi ha preso, ragazzi. Mi ha preso, mi ha preso la fine. Oh no. Non ha, non ha senso che faccia così male, comunque, eh. L'overdrive di Colette. Adesso io sono curioso di sapere quanto male ha fatto. Ah, ho capito. Fa 20.000 di danno così, con semplicità. Ho capito, va bene. Mi sembra un po' esagerato, Supercell, eh. Leggermente esagerato. 20.000 di danno. E voi immaginatevi che se c'erano due persone poteva farne 40.000. Così. Mi sa che ho trovato un brawler da pushare, eh. E ovviamente che ci troviamo contro Colette, il trenino e quello stramaledettissimo Colt. Ovviamente. Ovviamente, mannaggia. Allora, Colt. È incredibile come io trovi sempre te contro. Ok. Questo cosa sta facendo, Nani? Prenditi la tua linea. Ok. Di nuovo Colt. Sto facendo due linee da solo e i miei compagni non riescono comunque ad avanzare. È incredibile, ragazzi. È incredibile. Un like a questo video. Un random decente per l'hollo. Ve lo giuro, sto impazzendo. Ok, sono riuscito a fare dei danni importanti. È ritornato il nostro trenino che ha fatto anche lui il suo. Questo, boh. Cosa sta facendo il bro? Il bro. What you doing, bro? Ho preso un colpo. Incredibile. No. No, 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 no. L'overdrive fa malissimo. Ecco lì, 20.000 di danno fatti in tutta tranquillità e scioltezza. Meno male che c'è Marco. Che è riuscito a portare a casa questa partita. Grandissimo Marco. Baby shark. Oh. No, Rico. È veramente noioso in questa mappa. Me l'ho quasi dimenticato. Bro, perché vai a destra? Non venire con me. E sentite lì, bro, di andargli a fare... Letteralmente non ha doggiato neanche un colpo di quel colt. Colt se l'hai fatto tranquillamente. Colt. Vieni giù con me. Il loro colt è costretto a stare lì dietro. Grazie alla mia ulti. Ok. Il nostro trenino ha fatto qualcosa di bello goloso là. E lo vedo fare dei danni importanti. Oh no. All'overdrive, all'overdrive, all'overdrive. Fermatelo. No. Eh, quello fa male effettivamente di Squeak. Non ci avevo pensato. Oh no. Niente, quel Rico è riuscito comunque a prendermi nonostante tutto, ragazzi. Tra tutti quanti ha preso proprio me. Persona più sfortunata di Brawl Stars ultimamente. Ok, Rico è rimasto intrappolato. A colt diamo un po' di distanza. Colt. Ok, abbiamo tenuto l'ontano colt. Nel frattempo il nostro Chuck si è mangiato la loro safe. E si gode. Allora ragazzi, è un'ora che sto giocando con questo Poop Spike. È l'unica cosa che voglio fare in questo momento. Ok, forse è meglio se non ve lo dico. Lo abbiamo portato a 600 coppe. E mi va bene così. Abbiamo fatto circa 50 coppe che sono poche. Però purtroppo siamo andati in una win streak. Poi in una lose streak. Tutto perfettamente equilibrato come dovrebbe essere. Probabilmente nella live di oggi pomeriggio proverò a riportarlo a 750 trofei. E soprattutto mi divertirò a fare la emote sulle altre persone mentre siamo in live. E se volete passare già sapete dove trovarmi. Tra l'altro siamo pure arrivati a 500.000 follower su Twitch. Incredibile. E niente ragazzi, non posso che augurarvi una buona giornata. E come al solito, se volete vedere altri miei due video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao lacustri!